Anche questo mi sono accorto tardi, era già iniziato, chissà da quanta, ma lo so, adesso sono le 10.40. Ha fatto pure a Porcia, uno spettacolo è stato questa mattina, devo pubblicarlo io ancora, 20 minuti pure, ma anche di più, e ho perso un clip, la parte iniziale, credevo di star registrare. Ci ho pure parlato sopra, ma invece non avevo registrato nulla, vabbè comunque è stata bella pure la parte centrale e conclusiva. Questo mudo era tanto che non veniva più qua, era da tanto tempo. Il grande mistero rimane perché girano intorno alle case. E' vero che accanto lì c'è tutte le case sparpagliate, quindi dopo un cui esce c'è vicino una casa più o meno, ma questo proprio nelle immediate vicinanze è attaccato. E' vero che accanto lì c'è vicino, è vero che accanto lì c'è vicino. E' 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 vero che accanto lì c'è vicino. C'è vicino. C'è vicino. E' vero che accanto lì 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 c'è vicino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.